Buongiorno a tutti, bentornati a questa seconda giornata di festival. Riapriamo il nostro pomeriggio con un ospite noto nell'ambiente digital e soprattutto social media, Marco Massarotto, fondatore e partner di Doing, agenzia comunicazione digital leader in Italia, nata nel 2015 tra la fusione tra Hagakure, pronuncio correttamente, DNC e Banzai Consulting, riconosciuto imprenditore e opinion leader sui temi del social media e della comunicazione digitale, autore di svariati libri e membro di associazioni di settore. Benvenuto a Marco Massarotto. Grazie a te, grazie a voi, grazie all'organizzazione intanto per l'invito, grazie. In questa bellissima città che amo molto, o paese che amo molto, e oggi parliamo di leader digitali. Un anno e mezzo fa, una delle grandi sfide che ha chi si occupa di comunicazione su web, sui media digitali, è misurare le cose, misurare anche l'informazione rispetto al tema delle fake news, ma misurare i risultati. Internet è molto misurabile, anche troppo, cioè c'è un sacco di dati, di informazioni. E a un certo punto abbiamo avuto un'intuizione che è stata quella di provare a quantificare la leadership. La leadership è un concetto astratto, però è molto importante. E abbiamo distillato un po' le caratteristiche del leader. Il leader è quella persona che sa creare visibilità, sa creare partecipazione, perché se c'è una piazza vuota o se c'è una piazza che non interagisce, non ascolta, non funziona. E sa creare consenso, fiducia, voto, seguito, in qualche modo. Queste tre caratteristiche sono molto misurabili nel mondo digitale. L'engagement, la partecipazione, i follower, il seguito, la fiducia che viene data, la visibilità, la reach. E quindi abbiamo creato un algoritmo che ci consente di mettere su una mappa, su una classifica, le aziende che hanno una caratteristica che non è che ha più follower. No, puoi avere tanti follower, ma non ti caga nessuno, come, scusate, io ogni tanto uso il francese, e non si va da nessuna parte. Oggi la applichiamo, siamo in un contesto un po' più legato al mondo dell'informazione, ai leader politici che è già scontato quanto per loro siano importanti i media digitali. Nella prima parte vediamo un attimo la parte qualitativa, cioè come il fatto che i social media, gli smartphone, Facebook, Twitter, Instagram, siano alcuni tra i mezzi principali che usano nelle campagne elettorali e nelle relazioni con il cittadino, ha cambiato il linguaggio, i contenuti della comunicazione politica. E per finire invece li posizioniamo tutti su una mappa, su una classifica, e scopriremo anche delle sorprese, scopriremo che ci sono dei leader politici che pesano e contano e comunicano e raggiungono le persone più di testate nazionali giornalistiche. Quindi portando anche degli squilibri o delle situazioni su cui vale la pena forse dire qualcosa. E la prima domanda è che il leader è, come abbiamo detto, quello che guida, la parola non è quello che comanda, il leader vuol dire lead, viene dal lead all'inglese guidare, e quindi è quello che porta le persone verso una visione, un progetto, una destinazione. Però quando il leader poi si tuffa dentro Facebook, Twitter, ditemi cosa volete, se voi siete con me, cosa devo fare, cosa vi piace, ascolto le opinioni per assecondarle, e assimilarle e farle diventare agenda politica, rischia di diventare un follower, in qualche maniera, rischia di non essere più tanto un leader. Questa è una tendenza molto forte, poi la vedremo anche alla fine della presentazione come conclusione. C'è sempre stata la voglia di apparire vicini da parte dei leader, ma è sempre stata una nota nella tastiera della comunicazione che usavano, perché i leader sono anche sempre stati lontani, in cima alle colonne, sui troni, incutevano timore, rispetto, non erano sbracati sempre in mezzo alle persone, addirittura cercando di identificarsi. Oggi invece, guardate, di pizze, quanti ne abbiamo? Salvini fa la pizza fatta in casa, qui non funziona bene questo tasto, e deve sembrare uno di noi, va dietro il bancone, Di Maio e Fico vanno in pizzeria, c'è un'orgia di pizza, questa è una delle mie preferite, perché ha usato la pizza Di Maio contro il commissario europeo Ottinger, che aveva fatto una delle varie critiche, e ha detto Ottinger tutela sogni, questa in qualche modo, che è un'obiezione, anche questa, non c'è niente di male nella parola da popolo popolare, però se un commissario europeo a un ministro fa una critica, lui ti risponde come ti risponderebbe uno al bar, ma tu la pizza non ce l'hai, quindi scardina anche il dialogo istituzionale. Dico che però è una delle mie preferite, perché vedete lì in fianco a destra, uno gli ha risposto nei commenti, però la birra è tedesca, e questo è bello, è divertente, però al tempo stesso ci porta, come dicevamo, in un territorio in cui il leader quasi si anacqua da solo, si mescola in mezzo alle persone. E Renzi si è fatto le sue belle pizze, Conte col cartone e quant'altro, ma non sono solo le pizze, è proprio la voglia di raccontarsi come uno di noi, in qualche modo, e quindi sono in spiaggia anch'io, vado nelle spiagge popolari e non nelle spiagge esclusive. Berlusconi faceva anche questo un presidente operaio, però lo mixava con la villa in Sardegna, l'elicottero, quindi era una figura molto più complessa e anche molto più classica, se vogliamo, di leader, il grande imprenditore, l'uomo di successo, e stesso estemperava questo con il metto, il caschetto, che infatti gli venivano accusati di essere un po' patacche, diceva sì, ma poi ti togli il caschetto e sali in elicottero. Mentre oggi è totale il desiderio di medesimazione nell'essere popolari. La prima cosa che ha fatto il presidente della Camera era andare in autobus, che poi non è neanche credibile, in qualche modo neanche per qualcuno che non ha le auto private, infatti se ne è parlato tanto, io non do mai giudizi politici in questa presentazione, cioè cerco di fare un'analisi tecnica e un'analisi del linguaggio. La bicicletta, c'è questa ricerca, è Berlusconi che torna il pizzaiolo anche lui, c'è questa ricerca senza fine di popolarità, nel senso di essere parte del popolo più che di essere famosi. E anche chi si cita come riferimento culturale, non andiamo più a citare o i grandi politici del passato, i grandi opinioni leader, i grandi giornalisti che battono in testa, che fanno una grande fatica a entrare in questo dibattito, perché tutti siamo uguali a tutti. Il Presidente del Consiglio, il Capo dello Stato, l'ultimo arrivato, il pizzaiolo, il grande giornalista, quindi è difficile riaccreditarsi in questo mondo in cui siamo tutti uguali. E se il gioco diventa siamo tutti uguali, io sono uno di voi, manda me al potere, è il giornalista che arriva a fare una critica, a dire sei il solito intellettualone, non sei uno di noi, vieni distanziato in qualche modo. E in questo invece diventano fonti più inimmaginabili. Gerica là, cioè viene portato a portatore di opinione politica, che però è un salto un po' lungo, prendere Gerica là e rivenderlo. Però lo accredito e poi vedremo, gli do una capacità di visibilità superiore a quella di tanti giornali. La musica, no? Andiamo a comandare. E quindi la voglia di diventare, di essere o di farsi ritenere come normali, diciamo in qualche modo. Questa è una grande caratteristica che è stata accelerata e quasi resa totalizzante dall'andare a comunicare sempre di più e sempre più insistentemente su media orizzontali. Su Facebook non può arrivare dall'alto e dire voi chi siete, io sono, faccio è. Allora ti mescoli. Quindi i social network hanno forzato tantissimo questa tendenza. Ma hanno cambiato anche il linguaggio. Semplificazione, uso delle parole, empatia e contrasto, uso dell'immagine, uso delle tecniche pubblicitarie. Adesso le vediamo tutte. Anche queste nascono da un mezzo che ti forza a cambiare un po' il linguaggio. Semplificazione, per forza. Se devo dire le cose in un tweet, se devo dire le cose leggibili così, non posso scrivere cinque righe. Cinque righe sono già tante da leggere su un foglio, no? Un pensiero, dieci, venti righe. Su un telefonino sono impossibili, sono scoraggianti, no? Per l'importanza dell'immagine vedremo dopo, ma anche della semplicità o semplificazione. E qui il confine è labilissimo. E la semplicità è dire anche una cosa importante in modo comprensibile. La semplificazione è tagliare corto e dire è così e saltare fuori tutto. Purtroppo vediamo molta più semplificazione che semplicità. Un po' perché fa gioco e un po' perché, come diceva Wim Wenders, ho imparato dalla pubblicità al dono della sintesi, fare un film in 15 secondi è più difficile che fare un film di un'ora, perché vuol dire distillare le cose importanti, diciamo. E quindi ecco che abbiamo, veniamo martellati su alcuni temi e tutto viene ricondotto a delle idee preconfezionate che sono quelle. La sicurezza, pronto a fare questo, insomma ne siamo circondati. Cittadini 1, sistema 0. Cioè tutto un mondo, no? Io non sto criticando l'ecreto dignità, nemmeno il Movimento 5 Stelle, nemmeno Di Maio, ma analizziamo il linguaggio, tutto un mondo di cose estremamente importanti che sono dentro un decreto che parla di gioco d'azzardo, che parla di lavoro temporaneo, sfruttamento, è cittadini 1, sistema 0, punto, fine. Impacchettato, messo su un tweet, via, avanti il prossimo. Il prossimo è spazza corrotti, no? Però non è così semplice, no? E non sto negando anche l'importanza di alcuni valori che magari il Movimento porta avanti o quant'altro. Stiamo analizzando la comunicazione dicendo se la si gioca sempre così, bye bye Vitalizi, no? Poi arriveranno cause, una legge che probabilmente ha un profilo anticostituzionale, ma chi ti segue su quel tipo di dibattito? Nessuno? Cioè troppa poca gente, è troppo complicato. Allora si può renderlo semplice o si può semplificarlo? E qui il confine è veramente, veramente sottile, no? E anche qui le dimensioni, no? Questo è un risparmio da 40 milioni di euro che rischia di portare decine, centinaia di milioni di euro di cause. Non voglio criticare la cosa, ma voglio dirlo. E diventa un'enorme campagna comunicativa, bye bye Vitalizi, cittadini 1, cittadini 2, sistema 0. No? Quindi non si entra neanche più. Era giusto farlo, non era giusto farlo. È giusto togliere una pensione acquisita a qualcuno, anche se è una classe politica che vogliamo combattere. Troppo complicato. In generale, troppissimo, scusate, per i social network, che vivono di un hashtag, no? E via. E poi il giorno dopo c'è un altro hashtag, e quindi la faccenda è archiviata, no? E anche i linguaggi, non so quanto avete familiarità con gli youtuber, gli youtuber, i tutorial del make-up, scrivo, metto il sottotitolo, metto la luce, parlo guardando in macchina. È il linguaggio dei ragazzi, delle ragazze che parlano col telefonino e loro cotanei. Oggi sono felicissima, e lo sono come un cittadino italiano. Abbandono per questa giornata la comunicazione istituzionale che il mio ruolo mi ha imposto, per cui ho dovuto mitigare un po' le mie esuberanze, ma oggi voglio gioire con voi, perché grazie al Movimento 5 Stelle sono stati definitivamente aboliti i vitalizi. Abbiamo tolto quella macchia che continuava a far sentire lontani questi palazzi da tutti i cittadini italiani. Ce l'abbiamo fatta. Il Movimento 5 Stelle ha permesso che oggi questi palazzi vi appartengano nuovamente con l'equità e la dignità. Io e te, siamo sullo stesso piano, orizzontale, e paga tantissimo, perché dall'altra parte c'è un ragazzo, qualcuno di noi sul telefonino, che si sente ingaggiato, qualcuno che ti guarda in faccia, che usa il tuo linguaggio, il tuo tono di voce. Non tutti sono così bravi, in realtà Conte poi vedremo, performa bene, è molto ben gestito da una macchina comunicativa molto rodata, ma non ha ancora trovato una quadra, perché voi ditemi, chi di voi su uno smartphone di 7 pollici si metterebbe a leggere questa roba qui, ti perdi a metà, tu alzi la mano, sei probabilmente però l'unico in tutta la sala, qui anche io magari me la leggo volentieri, però il problema non è che dovrebbero leggerla tutti. Bye bye Vitalizi, lo vediamo tutti, e arriva immediatamente, questo richiede uno sforzo, anche solo la lettura, figuraci poi l'analisi, il processo e quant'altro. Bersani ha pagato Dazio con Renzi, perché Renzi è stato il primo a picchiarlo sul tweet, sulla sintesi delle 6 del mattino, e su tutti gli altri, non riuscendo a tenere i contenuti dentro. Cioè, prendo Bersani, D'Alema, chi volete, una classe politica che è stata surclassata sul mondo digitale e quant'altro, ha continuato a cercare di tenere i contenuti, no ma parliamo, ragioniamo, approfondiamo e quant'altro, in un dibattito tra forze politiche emergenti, trasformanti, se quant'altro, e cittadini che non recepiva proprio, e su un mezzo che rende molto difficile recepire delle foto sfocate, delle pose, un linguaggio che non appartiene a questo mezzo, e quindi può essere anche giusto, anche più giusto dell'altro nei contenuti, non lo so, non sta a me giudicarlo, ma non funziona. e quindi dà o non dà determinati risultati. E poi si finisce a usare pochissime parole nella semplificazione. Uno studioso americano ha identificato che sostanzialmente Donald Trump se la caverebbe con 77 parole, poi se sono 78 ne abbiamo trovata un'altra, la vedete tra un attimo, che sono sempre quelle. E mi giuro che l'ho seguito tantissimo nella sua campagna elettorale, secondo me sono meno di 77, sono 7. e poi ci sono una, che è la parola profanita dei vari billionaires, che sono i miliardi. e poi ci sono i miliardi. Fa dire la testa. Allora, noi ridiamo di Donald Trump, ma non è che siamo tanto lontani, se analizziamo un po' le word cloud dei nostri politici picchiano giù su poche cose perché funzionano, ma perché il media ha poco spazio e vive di poche parole che devono essere retweetate, rilanciate e quando funzionano, e posso sapere che funzionano perché le misurano i miei analytics, vado fino in fondo, le spremo fino in fondo. Poi c'è chi dice che i social media e i telefonini sono mezzi freddi, sono mezzi estremamente caldi, noi abbiamo un rapporto proprio anche nella postura, diamo i bacini allo schermo alle fidanzate, sui telefonini li teniamo, li portiamo a letto, li portiamo al bagno, è un tap, è un istante la reazione, il like, il compro, Amazon proprio, le chiamano emotional buying, vedi una cosa, bello, tac, comprato, one click buying, e via. E pensate quando voteremo così, votiamo, dopo 14 secondi, però lo fanno già, non in sede istituzionali, ma tra un po' ci arriveremo. E quindi, in un media così caldo, le emozioni sono delle dopamine, dei acceleratori pazzeschi dei comportamenti di feedback, di risposta, nel bene e nel male. Sono come voi, sono con la nonnina, quindi cuoricini, o nel dagli addosso, e quindi tutti a scatenare le speech, l'insulto verso l'avversario politico o quant'altro, con numeri importanti. L'abbiamo sempre avuto, ma vediamo che oggi siamo amici, sono vicino, non Adele, quindi grande ricerca dell'empatia emotiva e grande ricerca del contrasto, anche qui, senza contenuti. Pugliatevi il malox, io non molle vado avanti, noi contro di loro, e quindi torniamo al voto, il sistema cerca tutti i modi di fermarci, nessuno, non c'è mai contenuto. Non c'è mai il discorso di quello di cui si parla, è noi contro di loro, io sono come voi. Loro sono i politici corrotti, i giornalisti, i populisti, dovunque la guardiate, non è a senso unico, ovviamente ci sono alcune forze politiche un po' più visibili in questo momento, ma è uguale. E quindi parolacci, insulti, cose anche sgradevoli, ma che però devono aizzare gli animi, o a scaldare i cuori, su un corda, in alto i cuori, moto del momento 5 stelle, o scatenare gli animi contro il nemico, distruggilo, asfaltalo, no? I titoli dei video su YouTube ci dicono questo, no? Buffone, non importa non solo il contenuto, ma neanche la ragione, perché poi quando si passa a questo livello qui non è più importante se hai ragione o non hai ragione. Ma è chi urla più forte, chi ha più follower, chi ti viene retweetato di più l'insulto, quindi si scatena una guerra. Su internet si chiamano i troll, no? Sono quelli che non gliene frega niente di quello di cui si parla, gliene frega solo di screditarti, di attaccharti, di mettiti in difficoltà, e siccome non gliene frega niente vanno avanti più di te, perché tanto il loro gioco non è aver ragione o dimostrare di aver ragione in contenuto, è farti incazzare, no? Cioè è mettiti in difficoltà. Donald Trump è un troll gigantesco, ha trollato Hillary Clinton tutta la campagna elettorale, ma tutti quanti. Gli dava i nomignoli, no? Little Marco, Lion Ted, Crook Hillary. È impossibile discutere, no? Lui dice, Lion Ted, no? Wrong, 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 no? Ma con un tempismo, poi quando c'erano i Pokemon Go, quindi questi personaggi, no? Da andare a ricercare nella realtà virtuale, lui ha fatto subito Crook Hillary, il personaggio dei Pokemon Go, sempre col suo trolling, no? Molestie politiche, no? Politica di carriera, 30.000 email, prossimo ruolo disoccupato, quindi l'attacco personale, lo screditamento, no? In qualche maniera, e ne abbiamo esempi a milioni, che è una forma di molestia, se vogliamo, no? Di bullismo, eh, no, però è così, è messa da un politico di rilevanza nazionale, internazionale, quindi legittima anche una serie di comportamenti estremamente gravi. Mi chiedeva prima un giornalista, c'è una responsabilità enorme? C'è una responsabilità enorme, perché si ha una visibilità, una potenza di fuoco, un ruolo, un role model, però si legittimano comportamenti, nella politica, ma poi nella società, no? Terribili. E poi l'importanza del visivo, dell'immagine, adesso vedremo alcuni numeri, su come degli account di Instagram, che è tutta la foto, l'immagine, piaccio, sorrido, che bello, il cuoricino, guardate il cambio della guardia, cioè guardate in due, in tre anni, intanto l'importanza del canale Instagram, che è solo foto e immagini, e anche il sorpasso di politici della parola, del tweet, tutto, contro il politico del selfie, la foto, l'immagine, sono con voi, quant'altro, perché ha un'immediatezza, è la semplificazione della semplificazione, facciamoci la foto assieme, facciamoci il selfie, e contiene tutto, io sono uno di voi, viene a bordo, tu uno vale uno, tutto, è dentro, e quindi lo usa Justin Trudeau, no? È chiamato il selfable president, e quindi il tuo gradimento è quanto la gente vorrebbe farsi un selfie con te, punto. Programmi, contenuto, visione, società, spariti, no? È un fenomeno da pop star. Infatti usano i contenuti della pubblicità. Salvini fa il vinci Salvini, cioè seguimi e vinci un pomeriggio con me, ma è una velina, no? In qualche modo. Di Battista fa il viaggio con il nuovo figlio, che è un'app di un prodotto editoriale da scaricare, quindi contest, promozioni legate alla persona del politico, cioè dei linguaggi estremamente efficaci, ma veramente inediti, no? E dentro il viaggio lui però ti racconta una visione politica, il muro e quant'altro. Cominciamo a vedere invece un po' di dimensioni e di numeri, per capire quanto poi sia rilevante, no? Se è importante questa deriva o questi nuovi fenomeni. Vi dicevo prima, guardate la capacità che ha un politico rispetto a un'attestata giornalistica. E sono sicuramente un mondo che si contrae, un mondo che si espande, ma poi li vedremo messi su una mappa. La quantità di interazioni che genera Salvini in 30 post rispetto a quella che ne genera il Corriere della Sera su 10 volte tanti post. E quindi una volta il giornalista era la tua gatekeeper, no? Il tuo guardiano del cancello verso il pubblico. Il politico non aveva un pubblico, c'erano i giornalisti che ti intervistavano e quindi c'era un timore riverenziale, no? In qualche maniera, o comunque dovevi esercitare leve di potere più o meno occulto, ma insomma il giornalista era... Oggi, di quale giornalista del Corriere dovrebbe avere timore Salvini? O Di Maio, Renzi, giornalista di Repubblica, quello che volete? Nessuno, che gli frega. È più grosso lui, ma tanto. È il giornalista che dice, se sbaglio una parola e questo si arrabbia e mi dice, quel maledetto, guardate cosa mi ha detto, non do ma per tre giorni. Voi pensate che se un politico ti scatena contro la sua base di milioni di persone, tu puoi trovarti in una condizione in cui in un pomeriggio, in una nottata a casa tua, ricevi facilmente 30, 40, 50 mila commenti, messaggi, minacce, insulti, richieste di ban e quant'altro. 40 mila richieste di ban in 10 ore, sono 4 mila all'ora, sono 5 al secondo. Cioè il telefonino ti scotta in mano, non riesci più a comunicare con la tua famiglia. C'è roba da andare a pronto soccorso, c'è un ricovero psicologico, è destabilizzante. Una volta, la seconda volta, prego, mi dia le domande, giri il tema, scusa, ho sbagliato indicatore. Ecco, poi le fake news, anche qui non ci andiamo dentro a fondo, sarebbe un altro dibattito. Però quando poi si ha questo peso, si dovrebbe avere la responsabilità di quello che si veicola. E invece, in realtà, abbiamo ministri che mettono in circolo informazioni e puoi sbagliare. Allora, poi, lo sai che è una fake news e la metti in circolo, gravissimo. Non lo sai e la metti in circolo, per me è altrettanto gravissimo, in qualche modo volendo. Dopodiché non fai nulla quando ti viene detto che è una fake news triplamente grave. Però è la regola, tanto è vero che poi ormai ci sono i responsabili comunicazioni dei leader politici che ti dicono, ma la verità però è un concetto astratto, ci sono tante verità, no? Ci sono tante verità e dipende chi crea la verità, chi fa più seguito con gli altri. Quindi addirittura te lo impacchiettano col fiocco e ti dicono, ma tanto in realtà noi siamo più bravi a fare la nostra verità di quella degli altri. E questo però, messo in mano a chi ha un ruolo istituzionale che invece dovrebbe tutelare la informazione come interesse pubblico, B, ha una dimensione e una capacità superiore a quelle di media, diventa un fenomeno clamoroso, diventa un fenomeno, non voglio dire epocale, però in qualche modo l'orizzonte dobbiamo ancora vederlo. E riguarda tutti, vi ripeto, cerco di essere triquadri partisan o multipartisan, diciamo, in questo, e poi diventa difficile correggersi, che invece è fondamentale sui media digitali perché ti sbaglierei per forza, però ti correggi e sei un cogliono, cretino, e così via, perché torna dentro l'insulto, la derisione e quant'altro. In più, non solo hanno delle grandi basi, ma oggi sono strumenti estremamente capillari, cioè il costo contatto della verità di social network è, non so neanche dire, 8 millesimi di dollaro, per cui un baggettino di provincia può raggiungere decine di milioni di cittadini con un messaggio politico. E infatti, chi paga, chi sponsorizza, le cose difficili anche a tracciare tutto questo. È possibile validare, verificare momento per momento il proprio messaggio, o, come dicevamo all'inizio, generarlo momento per momento, quindi tutti i soggetti politici che abbiamo visto hanno dei team, degli staff che monitorano in continuazione. Dici una cosa, Ponte di Genova, Ponte di Genova, e allora spingiamo su quello lì. Vaccini, vaccini sì, vaccini no, temporale, Renzi, Lega, milioni, non milioni, c'è un tema, ne sto dicendo dei film troppo popolari, ma diciamo si può andare a un livello di capillarità veramente di grande dettaglio, e quel tema funziona, lo so immediatamente, vedremo poi una testimonianza della campagna di Trump, lo so immediatamente, e quindi investo tutta la giornata su quella roba lì, perché paga. Però a questo punto chi sta facendo l'agenda politica? Quella è la domanda che ci ponevamo all'inizio. Oppure, meglio, più efficace, peggio ancora, non lo so, di cosa sta parlando la gente? Prima ancora che io decida di cosa parlare. Oggi tutti parlano di questo argomento qua, bah, giù anch'io, no? A caricare su una cosa che so già che funzioni, e quindi diventa il dibattito politico, istituzionale e italiano in qualche modo dettato dalla gente. Quindi lì da dove è finito, no? Cento retweet, entra nel programma. Adesso è un problema che si ch�ienta, lo so che fa sul futuro. is that he says I'm going to build a wall at the border and I'll get Mexico to pay for it it'll be like a licensing deal and nobody builds like Trump so I told it to Roger and Roger called up Trump and Trump loved it he started saying I'll build a wall you know we'll build a wall and that's how the wall came about he started saying I'll build a wall ok quindi proviamo a prima di vedere un po' messi sulla mappa i pesi e i ruoli dei vari politici a tranne un po' una sintesi sono leader o sono follower? no? abbiamo coniato un po' di neologismi il follow leader perché il leader è quello che ti guida ma qui ci sono indizi diciamo numerosi che sia la gente a guidare i politici o che si facciano guidare o che cerchino addirittura di farsi guidare e poi creino una leadership fatta dal sono uno di voi è il vostro tema so che è il vostro tema ma però anche il partito politico storicamente è stato il portatore di una visione di un modello di società che oggi è molto sfocata perché se c'è un continuo assecondamento della pancia della popolazione e quant'altro il modello di società lo plasmi in tempo reale però può anche andare bene così nel senso possiamo anche decidere che in questo millennio abbiamo una forma diversa di associazionismo politico però qui stiamo parlando in tema di leadership diventa una leadership estremamente liquida estremamente ibrida mescolata in cui poi in realtà il leader è quello che sguiscia meglio tra il barile dei pesci della popolazione o della rete al tempo stesso però è estremamente efficace come leadership perché catalizza e se no per forza vengo a casa tua ascolto di cosa ti la metti e ti dico hai ragione tu ti addosso all'amministratore di condominio pa catalizza tantissimo quindi è una forma di leadership estremamente efficace seppure io la giudico in qualche modo debole o comunque distante dal concetto di leadership quindi è un tema di riflessione io purtroppo non ho le risposte ho solo le domande oggi diciamo ma ve le lancio e poi parliamone quindi non farete voi le domande nella sezione che io ne vi faccio io le domande e questa è la prima grande domanda secondo me che ci dobbiamo fare definire chi è oggi veramente il leader se chi porta i numeri chi porta le idee la visione o cosa e l'altra cosa è questo nuovo schema anche questo tra la gente e l'agenda l'agenda che addirittura è stata forse fin troppo lontana nei build nei palazzi mitizzata addirittura ma è stata forse fatta fin troppo a porte chiuse a un certo punto Obama l'ha portata molto bene in piazza Obama asfaltò come si direbbe oggi la Clinton nel 2008 comunque batte proprio 10 a 0 un ordine di grandezza incredibile Hillary Clinton nel 2008 perché Hillary Clinton diceva in Tyre nella sua casa del Midwest I'm not making a campaign I'm making a conversation seguendo le keyword del momento però poi con quest'area di uno che quando stacca il video dice sorry now I have the tea in my garden e quindi bassissima empatia bassissima identità Obama disse scriviamo assieme il programma che è un modo di farlo oggi in realtà non c'è uno scriviamo assieme il programma ma c'è un ravanare e rilanciare quindi una sintesi un po' troppo un po' troppo veloce o almeno c'è questo rischio no? non voglio fare di tutta l'erba un fascio necessariamente diciamo e quindi poi l'altra domanda che ci facciamo è chi come può scrivere un programma politico oggi io non sono contrario a che venga scritto in associazionismo popolare benissimo dipende in che modo però diciamo no? e quindi questa è una sfida secondo me che abbiamo tutti no? tutte le forze politiche ma anche le informazioni ai cittadini e il terzo è invece una cosa su cui c'è una domanda però è anche un tema un po' forte noi li chiamo i bulleticians i politici i politici bulli e questo è prima di tutto una domanda forse molto seria e molto immediata e urgente che dobbiamo porci se ci va bene di dare ai nostri figli a noi stessi al futuro un modello di società dove il leader di un paese è quello che insulta l'altro sui social network che aizza l'odio che scatena il bullismo in qualche modo che è un problema dilagante ulteriormente accelerato poi dalle smartphone le cose e quant'altro quindi tutto sta assieme e questo è proprio un tema di role model però è difficile vedere siccome poi abbiamo visto le caratteristiche su cui il media ti spinge ti spinge a essere un bullo ti spinge a catalizzare la tua gente su un tema e tu sei contro addosso le cose e quant'altro e quindi andremo ancora oltre fino a dove perché poi abbiamo già visto anche dei fenomeni preoccupanti e non vediamo però un modello diverso di leader perché l'irrazionalismo l'analisi e quant'altro non riescono a trovare cittadinanza nella campagna di Trump degli Stati Uniti è stata proprio esemplare azzittiva tutti a l'inted croquetail l'insulto e quant'altro poste queste domande provo a rappresentarvi negli ultimi dieci minuti che abbiamo la mappa che abbiamo costruito che abbiamo analizzato prima di tutto siamo andati a prendere i protagonisti della cronaca abbiamo analizzato un periodo di tempo che l'ultimo 45 giorni se non ricordo male Dario che coprono comunque una stagione politica molto intensa rientro delle vacanze spread tema finanziario il drammatico incidente disastro del ponte di Genova quindi dove non ci si è risparmiati nessuno di queste persone si è risparmiato e quindi li vediamo in condizione di grande ingaggio popolare e di grande parità diciamo in qualche modo quindi abbiamo preso in considerazione Salvini qui trovate poi le schede con i numeri generali Di Maio Conte e diciamo tre figure tra le più visibili nell'opposizione in qualche modo forse ci poterà stare Martina o meno ma diciamo ci sono sembrati quelli che almeno nel mondo digitale siano i più attivi più intensi e più visibili per provare a confrontarli tra di loro secondo quello che vi dicevo all'inizio cioè quel blend quel mix quell'insieme tra la capacità di essere visibili la capacità di fare partecipazione la capacità di avere fiducia e seguito che messi assieme noi diamo poi un grande peso alla partecipazione perché la partecipazione è un termometro dell'interesse che si genera ma le pesiamo tutte e tre messe insieme ci dovrebbero dare il profilo del leader o almeno di un comportamento dal leader nel mondo digitale abbiamo poi preso tre giornalisti scusate stavano davanti torniamo indietro un attimo ancora una ecco questa qua abbiamo preso tre giornalisti che ci sembrano altrettanto tre voci importanti di grande volume diciamo così nei media spesso che si attaccano discutono tra di loro e abbiamo provato a confrontarli e poi abbiamo messo assieme anche delle testate giornalistiche e vediamo cosa succede politici italiani la situazione diciamo in questo caso non offre non offre dubbi vedrete che l'asse verticale cioè quanto riesco a generare engagement l'algoritmo lo premia un po' di più dell'asse orizzontale quanto riesco ad essere visibile infatti poi vedremo se non ricordo male che Di Maio supera Renzi in qualche modo e vediamo come nell'ultimo nell'ultimo anno si avviene una dominanza totale qui sotto i 45 giorni che vanno dal fino alla fino alla scorsa settimana esatto non creda che vari poi così tanto se andiamo in altri periodi è un campione di tempo abbastanza lungo per fare un'analisi no no perché per l'esperienza c'è una variabile così esagerata tra un anno e un altro è una cosa inimmaginabile sì sì no è una fotografia di adesso diciamo la domanda è giusta in termini di analisi di compressione è una fotografia di adesso cioè di questo trimestre diciamo così in qualche maniera poi certo ci sono alcuni dati storici li abbiamo visti prima il dato storico su Instagram ad esempio però questa è una fotografia dell'attualità immediata diciamo e e li vediamo messi 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 in ordine poi magari tra un anno cambia tra un mese non cambia non so come dire non può invertirsi così velocemente sarebbe un fatto clamoroso diciamo un anno due anni fa sono convinto anch'io non era così probabilmente non era così cioè questi di Mario probabilmente era molto più sparito quant'altro però oggi è così diciamo poi sarebbe interessante avere anche le fotografie storiche purtroppo non le abbiamo fatte un anno fa insomma continueremo a farle si 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 basterebbe immaginare per un attimo le famiglie italiane due anni fa quando si apriva il televisore c'era Renzi tutti davanti adesso ci arriva Renzi spengono c'è dubbio si 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 non c'è dubbio è un po' costoso fare questa ricerca per noi quindi diciamo la facciamo volentieri però continuare portarla avanti farla vuol dire utilizzare le risorse della nostra agenzia senza un committente non riusciamo a monitorare tutto in continuazione per cui diamo dei carotaggi delle fotografie delle analisi però forse andrebbe fatto siamo perfettamente d'accordo diciamo vediamo aggiungendo in questa mappa cosa succede aggiungendo in questa mappa media e giornalisti confrontandoli tra di loro per andare a rappresentare il discorso che ci dicevamo all'inizio che ci dicevamo in varie cose oggi che oggi abbiamo dei politici che sono dei canali di comunicazione più potenti dei giornalisti forse dei media di sicuro ma anche i giornalisti sono a volte più potenti dei media in qualche modo e questo genera un nuovo equilibrio uno squilibrio non so come dire vediamo vediamo come sicuramente hanno un ruolo importante ma quando andiamo fanno sparire alcune figure diciamo quando andiamo a metterli però Salvini sta sopra la Repubblica il fatto quotidiano Di Maio sta sopra il Corriere sta sopra Mentana quindi arrivo subito lo secuo reverenziale storico del giornalista verso il politico che è un potente oggi è doppio ce l'ho perché sei un potente sei un ministro e ce l'ho perché hai più pubblico di me quindi se mi contrasti quello che sto dicendo se io interpreto la cosa e tu mi dici non è vero non ho detto questo viene una diatriba dove il tuo pubblico è un pubblico anche passionale politico che mi si scatena contro quindi c'è il confronto tra il mondo dell'informazione e il mondo della politica è molto scosso da questi pesi prego scusi per capire come io andrò a mio pubblico il grafico perché la tua dimensione ha tre dimensioni gliele illustro subito una dimensione è la dimensione ha tre dimensioni gliela spiego subito una dimensione è la dimensione verticale che è l'engagement quanta partecipazione riesco a generare un mio post la faccio semplice poi le misurazioni che facciamo sono ben più complicate un mio post comunque siamo alla fine quindi intratteniamoci volentieri nelle domande quanto like retweet commenti genera sono pesati tutti diversamente a seconda della difficoltà che si ha ad ottenerli quante visualizzazioni riesco a generare e quindi quanta visibilità riesco ad avere che è figlia dell'engagement perché se io faccio like su un tuo post i miei amici lo vedono e quindi noi diamo molto valore a chi ha tanto engagement perché lo spinge anche verso la visibilità o lo può spingere e la terza dimensione è la popularity noterete che i cerchi sono di dimensione diversa perché le follower base i numeri di follower sono diversi allora noi non pensiamo che si possa dire Salvini è meglio di Di Maio perché ha più follower o Renzi è meglio di Salvini perché ha più follower pensiamo che un dato di questi sia debole ma il mix e l'insieme di questi tre dati pesati secondo la difficoltà ad ottenere dei risultati danno un'informazione un po' più attendibile o un po' più solida diciamo in qualche modo che chiamiamo la leadership digitale perché riesco a avere tanti follower tanto consenso tanta fiducia tanto engagement tanta partecipazione che è una parola da politica e tanta visibilità tanta reach e o riesco a avere un buon equilibrio tra queste tre cose che si influenzano tra di loro diciamo e in questo riesco a superare i giornalisti che non sono presenti in questa prima slide sono lì in fondo riesco a superare gli organi di informazione poi chiudiamo su quest'ultima slide e arrivo con la domanda quando introduciamo poi il maestro scopriamo che gli allievi non l'hanno ancora superato perché se in questo schema vedete come si riducono se mettiamo dentro Donald Trump la scala diventa questa ok certo che parliamo di no l'America l'Italia ma la scala non è 250 milioni di cittadini contro 60 milioni di cittadini è una leadership globale e quindi verso una scala è insomma solo una cosa d'effetto però serve a dare anche una dimensione e poi anche una scala un po' meno provinciale nazionale anche del fenomeno in qualche maniera perché poi Trump è l'emblema perfetto di tutto questo tant'è vero che poi sono andati anche a inseguirlo nella ricerca ma addirittura anche nei consulenti in tutto quanto insomma io la slide dopo dice grazie quindi mi lascio aperto un po' il dibattito abbiamo ancora finché ci fermano 5-10 minuti ma mi sembra che abbiate tante domande quindi parliamone è arrivato il portato però avete già parlato del peso dell'advertising l'abbiamo parlato un pochino prima a metà forse poco prima che tu arrivassi identificando proprio anche il costo contatto qui dentro in realtà non influisce tanto in questo peso di classifica l'advertising perché lo filtriamo fuori in qualche modo sulla reach di fatto dal nostro punto di vista certo che tecnicamente sarebbe bene isolarlo e quant'altro è comunque una tua leva quindi e abbiamo detto una cosa che è la più forse allarmante o rilevante o interessante che oggi il costo contatto è 8 millesimi di centesimi con qualche milione di euro con un budget molto limitato si raggiungono centinaia di milioni di popolazione poi è giusto anche fotografarlo per certi aspetti perché se io accelero tutta la mia presenza con l'advertising porto a casa il risultato non è che prima non usassero le campagne media o la fissione politica in qualche modo poi si può spacchettarlo misurarlo identificarlo in certi casi più facilmente in altri meno facilmente però di fatto è un acceleratore di un fenomeno alzo l'engagement alzo i follower quello che è interessante è che questa matrice ci evidenzia subito i finti follower perché se io metto assieme se tu hai una bolla così ma sei basso qui nell'engagement è un red flag l'abbiamo beccato su un caso di una campionessa di sci a cui però avevano rubato l'account avevano pompato l'account di follower usato con contenuti pornografici poi lei l'ha ripreso non riesce a togliersi i follower che non la seguono quindi questo è stato il motivo per cui sono follower finti o non veritieri e la vedi subito perché vedi tantissimi follower zero engagement poi avevano alto basso quant'altro ma se c'è una discrepanza così forte è un bel campanello d'allarme poi ci sono altre tecniche per rilevare diciamo l'inattività dei follower che in parte è organica in parte invece non lo è quindi insomma sono sicuramente discorsi interessanti sono livelli forse di dettaglio tecnico ancora da cui andare un po' più dentro diciamo forse prego dunque l'analisi del linguaggio delle cose prima è un'analisi di linguaggio di comunicazione questo è un algoritmo per cui noi tracciamo tutti abbiamo degli strumenti di analisi delle conversazioni web dei social che usiamo quotidianamente nei monitoraggi che fanno le aziende i nostri clienti e quant'altro misuriamo tutte le loro attività social su un periodo di tempo predeterminato che può essere continuativo come suggeriva il signore nello scenario ideale però se noi dobbiamo tenere traccia di 50 politici tutto l'anno abbiamo due persone che fanno questo tutto l'anno qualcuno cede e pagare detta male scusate ma siamo una piccola azienda privata e se invece facciamo una fotografia del genere investiamo a fini di comunicazione di cose e tutto un po' di tempo lavoro per portare un risultato che comunque un interesse ce l'ha noi misuriamo tutte le attività social e tutte le interazioni e le variazioni in un arco temporale e poi abbiamo pesato ognuna di queste in una formula diciamo in un algoritmo che dà un po' più peso all'engagement che al reach un po' più peso all'engagement su facebook piuttosto che su instagram adesso sto semplificando non mi ricordo esattamente dove sono tutti i pesi è un foglione di excel bello complesso però abbiamo soppesato ogni cosa perché giudichiamo che sia più difficile ottenere una cosa o più premiante o più importante se ho un engagement elevato su facebook rispetto su twitter di facebook a dieci volte la popolazione di twitter quindi è un media più pesante e quindi abbiamo fatto un sistema di pesature molto sofisticato che mettiamo anche in discussione poi a ogni cosa ma che dà dalle fotografie non lontane dalla realtà però messe su carta disegnate posizionate quei pesi con le dimensioni quindi bene o male pur che se ne parli il contenuto si perde è anche peggio del bene o male se mi chiedi per il mio parere è anche peggio del bene o male pur che se ne parli perché va bene anche l'odio pur che se ne parli è anche va bene anche le fake news pur che se ne parli quindi i temi di allarme sociale diciamo sono fortissimi questo però è frutto di scelte ben precise quello diciamo con il tema della responsabilità nessuno ti obbliga a fare questo il tema di fondo è che questo paga paga indiscutibilmente in termini di numeri e poi di voti perché poi siamo sempre tutti con il telefono in mano fino al seggio e quindi dobbiamo porci delle domande che non penso siano chiudiamo Facebook per questo e però ripeto nelle tre domande che vi ponevo ve l'ho detto io purtroppo non ho la risposta non ho la risposta di come questa trasformazione del linguaggio dei contenuti dell'etica dell'informazione politica che sta sicuramente spinta accelerata dai mezzi ma attenzione non solo secondo me è spinta accelerata anche dai livelli di educazione della popolazione anche dalla responsabilità degli organi informativi ma anche da noi che facciamo la stessa cosa tutti i giorni che legittimiamo questo comportamento come cittadini che discutiamo nei gruppi di Whatsapp del condominio dell'amministratore le cose la vicina cioè siamo anche noi il tessuto sociale su cui che veniamo che esploitati per questa cosa qui quindi purtroppo non ho la risposta ma però diciamo avere la domanda è già qualcosa secondo me nel senso che almeno poi possiamo contenuti come diciamo all'inizio spariscono perché pagano poco rendono poco e da un lato e poi secondo me sono difficili sono difficili purtroppo io credo che questa sia io la paragono a una slavina non a un colpo di vento è una slavina figlia del fatto che siamo un paese con l'alto funzionale più alto del mondo con il tasso dell'oreate più basso d'Europa cioè con delle sacche di povertà economica culturale gravissime e qui non puoi chiedere di poter ragionare sui decreti legge le profondità e quant'altro oppure poi chiederlo ma chiedere quest'altro funziona meglio in qualche modo prego arrivo subito anche da te non glielo so dire perché diciamo il mio punto di osservazione per gli altri paesi d'Europa non abbiamo fatto analisi così approfondite se guardo un po' così un po' come guardiamo noi da fuori in alcuni casi sì in altri meno secondo me credo che ci sia una forte particolarità particolarità italiana noi abbiamo alcune indicazioni allora un po' si di sicuro lo vediamo dai composizioni dei parlamenti lo vedremo nelle elezioni europee che arrivano tra poco e credo che noi abbiamo una fortissima predisposizione alla chiacchierata alla conversazione le cose e quant'altro che non è necessariamente una cosa negativa diciamo ma noi questo lo vediamo abbastanza certamente confrontando i risultati sulle varie countries sui vari paesi dei presidi social e digitali dei clienti multinazionali magari per cui lavoriamo l'Italia tende ad avere tante domande tante proteste tante richieste tanto assistenza tanto caring in qualche modo ci piace chiacchierare come diceva la Ferilli in qualche modo e quindi attecchiamo facilmente però da qui a dire che siamo completamente diversi dagli altri o il fenomeno Trump è l'esempio quindi io lo vedo un fenomeno globale che funziona dove ci sono paesi che sono culturalmente predisposti ad assecondare un certo linguaggio politico sono altri paesi che sono rimasti un po' più strutturati rispetto a certi temi rispetto a noi e comunque sicuramente direi che siamo nella top ten in qualche modo ultimissima domanda poi dobbiamo chiudere mi dispiace figurati il vero semplice per sapere questo slide è anche diciamo i lavori preparatori si dunque noi abbiamo un sito di iLeader dove ci sono le ricerche che abbiamo pubblicato queste non so Dario se le pubblicheremo se le daremo ma penso che possiamo mandarle al festival senza problemi diciamo quindi attraverso la segretaria organizzativa la segretaria organizzativa le facciamo mettere a disposizione mi è interessato di fare la loro si senza dubbio o se ti vuoi rivolgere davanti a te proprio qui c'è Leonardo che è il nostro ufficio stampa e poi anche lasciare un contatto a lui e forse la via più veloce ok grazie grazie a voi mi spiace dover interrompere non so se consentiamo l'ultima domanda al signore con risposta di un minuto per sapere se è corretto fare il paragone il politico il giornalista e non il politico il giornale o il politico e i media perché il network e i media insieme potrebbe dare delle risposte sicuramente qui abbiamo fatto sia il politico sia il giornale perché qui dentro c'è Mentana Saviano adesso con Trump vanno via un po' in piccolino tutti ma c'è dentro Saviano quindi abbiamo fatto un mix ancora una volta questo slide poteva avere 140 soggetti non era questo il contesto adatto per presentarla già si fa fatica a leggerla così abbiamo cercato di dare una sensazione poi certo che se io metto il gruppo editoriale all'espresso rispetto a Repubblica forse riguadagna terreno su di Maio però insomma cambia le cose fino a un certo punto sicuramente anche quello lei è molto per sficace sarebbe sicuramente un approfondimento in più probabilmente non adatto a 45 minuti a Camoglie il venerdì pomeriggio diciamo non per nulla togliere ma anche solo proprio come ragionamento e come supporto per analizzarlo richiede probabilmente un'altra cosa però appunto crediamo che sicuramente per le aziende per il business ma anche per l'informazione un metodo di analisi e di misurazione sia sempre più importante quindi ci ha fatto molto piacere oggi poter fare questo piccolo lavoro e questo interessante dibattito con voi e speriamo in futuro di avere altre occasioni grazie io ringrazio Marco Massarotto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti